Cara Signora Regalino, come sempre ci rivolgiamo a lei per dare spazio agli servizi che si registrano nella nostra amata Cortone. Sono un cittadino di Via Cappuccini e da oltre due mesi chiamo costantemente il Comune per chiedere la soluzione di un problema che potrebbe sembrare poco importante, ma in verità Via Cappuccini per la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni locali a problemi di luce alla sera. Ho chiesto a nome di tanti abitanti di questa via molto frequentata che c'è una luce spenta da oltre un anno e abbiamo chiesto di risolvere questo problema. Mi sa che non c'è più peggior sordo di chi non vuol sentire. È possibile che i cittadini chiamino il Comune per avere risposte e risoluzioni dei problemi? Nessuno si attiva per fare in modo che i cittadini siano ascoltati e rispettati? Seguo la sua TV che è per noi crotonesi e la televisione storica di Crotone. Seguo Buongiorno Crotone e so che non si tira mai indietro quando deve mettere in evidenza un problema della nostra città. Ma Crotone è la nostra città? C'è attenzione per i piccoli e grandi problemi che insistono? Sono certo che farà un servizio per sottolineare questo problema e allo stesso tempo speriamo che dal Comune per questo 2023 ci sia l'impegno di risolvere queste difficoltà. Abbiamo bisogno di attenzione e di rispetto perché come i cittadini non vogliamo lamentarci ma sentirci rappresentati con dignità. Grazie signor Regalino, grazie per esserci e per dare sempre spazio a tutti noi crotonesi.